film permette di veramente di fare un viaggio nella cinematografia svizzera permette di scoprire film di oggi di ieri in italiano francese in tedesco permette di vedere film per bambini thriller film d'amore è proprio vuol dire è proprio bello poter navigare in film ci sono molti film che amo c'è anche un mio film e ovviamente questo mi scalda il cuore forse se devo proprio scegliere un titolo ma proprio per le mie esperienze di spettatore io mi riguarderei la sala bond e per il resto evviva film